C'è bisogno proprio un po' di ventilazione. Vai a vedere questo ventaglio, lo devi girare al contrario. Ora sì, ora ci siamo. Vai, vai. Ventila un pochino per favore. C'è caldo, ci sono 33 gradi, ci stiamo arrostendo, siamo a Goa, Goa Vecchia, e questa è la chiesa di San Gaetano. Diciamo che era meglio ieri a mare. Sì, vabbè, a mare stai a mollo e allora... Un po' di meglio, pazienza, la cultura, il prezzo della cultura. Comunque è ricca di chiese, Goa Vecchia. Appunto stamattina abbiamo visitato la chiesa dove ci sono le spoglie di San Francesco Saverio, che si chiama... Chiesa del Buon Gesù. Chiesa del Buon Gesù. E poi c'è un'altra chiesa che è... San Francesco d'Assisi. Perfetto, poi abbiamo visitato la Se Cattedrale e ora questa è la quarta chiesa. Speriamo l'ultima. No, ce ne sono altre, ne vedremo. Cercate di non essere blasfema. Questa si chiama chiesa di San Gaetano. Ciao. La vecchia Goa fu un centro molto importante dal punto di vista religioso, soprattutto all'inizio del Cinquecento, quando San Francesco Saverio arrivò proprio lì a Goa. e comunque il periodo coloniale iniziò con Francisco de Almeida agli inizi del Cinquecento, nel 1505, quando fu nominato vicerre delle Indie e fu appunto il primo vicerre portoghese in terra asiatica. Francisco de Almeida fu nominato vicerre delle Stato d'India nel 1505 dal re Manuel I e partì con 22 navi e un'armata di 1500 soldati. Prese Chilua in Tanzania per fondarvi un forte, poi più a nord saccheggiò Mombasa con l'aiuto della città di Malindi, nemica giurata di Mombasa. Venne costruito un forte anche a Zanzibarra. Si stabilì a Cocin e fu incaricato dal re di costruire quattro forti lungo la costa indiana. Partendo da nord, il primo era in prossimità di Goa, il secondo a Canur, il terzo a Cocin e il quarto a Collam. Lo Zamorin di Calicut, sentendosi assediato, preparò una flotta di 200 navi per fronteggiare i portoghesi, ma Lorenzo de Almeida, figlio di Francisco, inflisse un duro colpo alla flotta di Calicut. In seguito, lo Zamorin convince il colattire di Canur a far fronte comune contro i portoghesi che arrogantemente ostacolavano i mercanti arabi. Nel 1508, lo Zamorin di Calicut chiamò in soccorso la flotta egiziana dell'Amir Hussain, che sconfisse e uccise Lorenzo de Almeida a Chiaul, nei pressi di Bombay. Francisco de Almeida, furibondo e in cerca di vendetta per l'uccisione del figlio, fece imprigionare Afonso de Albuquerque, che era venuto a sostituirlo nel ruolo di vice re. E nel 1509 si diresse addio nel Gujarat, dove nella storica battaglia sconfisse i musulmani Mamelucchi, lo Zamorin di Calicut e il sovrano del Gujarat. Avendo portato a termine la propria vendetta, fece liberare Afonso de Albuquerque e gli cedette il titolo di vice re. Infine, rientrò in Spagna, ma arrivato a capo di Buonasperanza, nel 1510 cercò di approvvigionarsi d'acqua. Dopo aver razziato dei capi di bestiame alla popolazione locale, i portoghesi vennero inseguiti dai coicoi, che uccisero 65 portoghesi, compreso Francisco de Almeida. Il destino del primo vice re dell'estato da India si concluse come ladro di bestiame.